Mi chiamo Annunziata e lavoro nell'ambito della comunicazione e della grafica multimediale. Ho conosciuto praticamente Antonio e Arduino Airforex un anno e mezzo fa, dopo un'esperienza di studio autodidatta e anche un approfondimento con un corso di un'azienda svizzera, dove veramente non avevo capito niente dei tredi. Conoscendo loro invece ho capito veramente che era quello che stavo cercando, da lì a pochi mesi, e l'ho conosciuto un anno e mezzo fa, da lì a pochi mesi ho deciso di iscrivermi all'Accademia, che è stato il passo più importante secondo me in queste decisioni per il trading. Sono veramente soddisfatta, è come se la loro scuola fosse venuta incontro alle mie esigenze, e mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto capire anche che la mentalità nel trading è molto importante e non solo nel trading, ma questo non è un percorso solamente per il trading, ma anche che si rispecchia nella vita quotidiana. Nonostante molte voci in famiglia che comunque sia non erano proprio del tutto favorevoli a questa mia scelta, io ho proseguito con la consapevolezza che questo è un percorso di crescita inestimabile. Il mindset, Antonio ci ha fatto capire che è veramente molto importante, perché l'emotività al momento che si è in demo e poi si passa in reale, gioca un ruolo molto importante, e questa cosa qui Antonio ci ha veramente insegnato che diciamo un po' a dominarla, e questo ripeto è sempre una questione proprio non solo diciamo che poi ci servirà nel trading, ma ci servirà soprattutto anche nella nostra vita. L'Accademia è un percorso che comunque si è completo, e è quel sogno, chiamiamolo così, che io ho sempre cercato e finalmente con loro l'ho trovato.